Se vi dico siamese, scommetto che molti di voi penseranno ai gatti siamesi, ma lo sapete che in realtà esistono molte varietà di gatti tipiche della Thailandia? Esiste addirittura un libro che si chiama Tamra Meo, risalente al periodo del regno di Ayutthaya, in cui sono presentati le 23 razze di gatti tailandesi dell'epoca, con tanto di disegni illustrativi. Tra questi gatti troviamo 17 Meo Mon Con, ovvero gatti che si pensava fossero di buon auspicio, e 6 Meo Rai Hai Tor, ovvero gatti che si pensava portassero sfortuna. I 17 Meo Mon Con sono Ninilat, Virat, Suprakt, Thong Deng, Gauhtem, Marex, Sisi Sawad, Corat, Sam Svect, Rattna Kampon, S16 Meo Mon Con, Там nächsten Sera Playstation, Rakiaionar, Transe Sofit, обновл Prof queen, Su Fontang 3 Meo Rai Hai Tor, sono Se ti interessa la cultura tailandese ricorda di mettere un mi piace e se vuoi più dettagli ti consiglio di recuperare il post dedicato sul blog, trovi il link qui sotto in descrizione.